La Roma non convince per nulla ma riesce a battere un Monza solido in difesa e spettacolare in avanti. Murigno deve fare i conti con una lunga lista di assenti, in cui spiccano i nomi di Paolo Di Bala, Renato Sancis e Chris Smolin, perciò formazione quasi obbligata. Recuperato Diego Llorente, il quale parte però dalla panchina, mentre Brian Cristante trova ancora spazio nei tre di difesa e Andrea Belotti a fianco a Romelu Lukaku in attacco. Palladino non potrà invece contare su Izzo e ovviamente sul Papu Gomez, appena frenato da una positività al doping. Rispetto al 3-0 sulla Salernitana, spazio a Jose Macin nella coppia che aggirà a supporto del classe 2002 Lorenzo Colombo in attacco. Pedro Pereira preferito invece da titolare a Patrick Churria. Rete bianche all'intervallo con Di Gregorio assoluto protagonista negli ultimi dieci minuti di gara. Due parate providenziali, la prima sul colpo di testa di Auar, la seconda con un riflesso pazzesco di piede sul tocco.